Marta Viola, Orvieto Fotografia 2018, oggi ci presenta la sua lecture Sangue Bianco, ci vuoi spiegare perché? Sì, allora Sangue Bianco è il mio ultimo progetto fotografico, è diventato anche un libro edito da 6x6 in seguito a una raccolta, a una campagna di crowdfunding realizzata tra novembre e dicembre 2017 il progetto fotografico e di testo riportato in questo libro sono collegati al mio vissuto con la diagnosi di leucemia e quindi ho documentato da luglio 2016 fino a pochi mesi fa quello che è stato il mio percorso e l'ho fatto attraverso la fotografia ma anche attraverso una parte testuale che si equivale nel testo alle foto Tu già fotografavi, già eri fotografa, però hai voluto continuare a fotografare durante tutto quello che ti è successo non solo appunto come una questione terapica ma anche guardando al tuo futuro Sì, è stata una cosa necessaria, cioè non l'ho deciso a tavolino, l'ho fatto, mi è venuto naturale fare quello che sapevo fare c'erano tantissime cose che non potevo fare più e invece fotografare mi era ancora possibile, scrivere mi era ancora possibile quindi ho affrontato questo vissuto attraverso le immagini, mi permettevano di vedermi al di fuori di conoscere l'ambiente in cui mi trovavo costretta e quindi è stato, sicuramente è stato anche terapeutico ma è nato da una necessità molto profonda, ecco e io ho il primo lavoro così intimo, personale, perché appunto di solito faccio fotografie documentarie mi occupo di ambienti, per cui ecco è un lavoro molto personale ma perché personale è la tematica Che cosa ricerchi quando scatti? Bella domanda, la verità, cioè la verità delle cose, la verità dello sguardo mi piace rappresentare le cose come sono, senza troppo artificio poi sono un amante di tantissimi generi di fotografia però per quello che riguarda me, la mia espressione, io cerco sempre di avere un approccio se vogliamo anche crudo, ecco, però diretto Grazie a tutti Grazie a tutti